Fondamentale passo avanti sul nuovo ospedale di Pesaro da costruire a Muraglia. Questa mattina nella Sala Rossa delle Comune di Pesaro è stata infatti posta la firma sull'accordo di programma per la realizzazione del nuovo nosocomio alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, del Direttore Generale Asur Marche Nadia Storti e del Direttore Generale dell'Ospedale Marche Nord Maria Capalbo. L'accordo prevede il trasferimento delle strutture presenti nell'attuale polo ospedaliero di Muraglia entro il 30 settembre 2024 per permettere l'avvio dei lavori entro il mese successivo. La nuova struttura prevede 70.000 m2 realizzati con i più alti livelli di sicurezza antisismica e risponderà a requisiti di risparmio energetico prevedendo la costruzione di un edificio con consumi quasi a zero. Previsti 400 posti letto per un investimento di circa 170 milioni di euro. Ora, entro la fine del 2022, verrà indetto un concorso di progettazione per individuare la migliore proposta che risponda alle esigenze del territorio con particolare attenzione all'inserimento nel tessuto urbano. Seguirà il bando di gara per appalto integrato con cronoprogramma entro la fine del 2023 e avvio di bando gara per appalto integrato entro il 30 settembre 2024. Se le date verranno rispettate si punta a iniziare i lavori entro la fine del 2024 per avere il nuovo ospedale entro la fine del 2027. Per Acquaroli quello di oggi è stato un passo importante per dare un cronoprogramma definito ad uno degli investimenti più grandi mai fatti dalla Regione. Soddisfazione anche per Ricci che ha però espresso preoccupazione per la carenza di personale e per la non condivisa cancellazione dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Grazie.